3, 2, 1, sigla! Hello, hello, hello girls! Bentornate o benvenute sul mio canale. Ragazze, quasi tre settimane, anzi credo siano tre settimane che io non giro un video and it feels so weird to be back in front of the cameras ed è ancora più strano raga questo video, nel senso non avrei mai pensato nella mia vita di fare un video dove facevo vedere il mio nuovo naso a qualcuno, non lo so, è strano e non lo so, allora vabbè ovviamente non passerà tutto il video così adesso ve lo faccio vedere, l'unica cosa, volevo fare una premessina prima di iniziare il video ossia raga sono passate tre settimane, mi hanno limato l'osso, me l'hanno spaccato quindi immaginatevi che ancora dopo tre settimane non è al pieno della sua bellezza e è ancora un po' gonfietto raga, ovviamente anche il medico, questa è una premessa mi ha detto che ci vorranno dai sei mesi in poi per vedere l'effettivo risultato anche se ancora non è capodanno possiamo fare il nostro countdown quindi tre, due, uno, oddio mi vien da ridere hello girls, yes, this is my new nose e oh mio dio raga, oh niente, yes it feels so weird, you guys have no idea beh, fatemi sapere innanzitutto se vi piace, se non vi piace come ve lo aspettavate, insomma, fatemi sapere, datemi i vostri feedback e nulla, a me personalmente piace molto non vedo l'ora che si stringa ancora un pochino e nulla, vabbè incominciamo con il video vero e proprio quindi incominciamo dall'inizio, la scelta del chirurgo raga innanzitutto io ho iniziato a fare tantissime ricerche raga su internet e mi sono consulta, vi ho anche penso fatto, sì, 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 sì vi ho fatto anche una storia dove chiedendovi quale chirurgo mi consigliavate, insomma, per una rinoplastica me ne avete dati tantissimi e insomma un sacco, un sacco, un sacco, un sacco e poi cos'è successo? Federica mi ha scritto in privato ciao amore, se mi stai guardando e mi fa amo, guarda che c'è questo qua a Milano molto molto bravo perché praticamente cos'era successo? oltre a Federica mi ha anche scritto Giulia, Giulia Sinesi amore, se vuoi questo video, l'avvio anche tu morta, l'avvio anche tu, suona malissimo vabbè e praticamente lei mi ha detto guarda amo, c'è una mimica che l'ha fatto in Turchia e praticamente Giulia mi ha fatto scoprire che in Turchia, raga, è la landa della rinoplastica perfetta nel senso che, a quanto pare, lì in Turchia sono molto 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 bravi nelle rinoplastiche fatto sta che lei mi ha consigliato un chirurgo turco e all'inizio tipo ho detto oh my god, i nasi, raga bellissimi be-fucking-issimi raga, bellissimi se avete voglia, pazienza insomma, io non ho avuto molta voglia ma vi garantisco che tutti quelli che ho visto erano veramente pazzeschi nulla da dire però mi disturbava il fatto che fosse in Turchia perché comunque volevo avere la mia famiglia e i miei amici vicino non potendo mobilitare tutti per venire con me in Turchia, raga perché mia madre lavora, i miei amici lavorano mio padre lavora quindi chiaramente non mi andava di chiedergli questo sforzo ecco, tipo venite con me in Turchia perché mi voglio rifare il naso ecco, forse non lo so, non mi sembrava tanto il caso quindi mi sono un po' più impegnata e ho detto fatemi cercare oddio, mi è caduto un po' di Coca-Cola sul maglione vabbè che tanto lo devo mettere a lavare whatever e qui appunto entra in gioco Federica premessa, raga dovete sapere che Federica è ossessionata dai nasi e e si addormenta, raga guardando l'hashtag su Instagram sapete quando tipo cercate gli hashtag su Instagram? ecco, lei per addormentarsi invece di guardarsi tipo gli ASMR come me lei si guarda hashtag rhinoplasty oppure tipo rinoplastica per vedersi tipo tutti i nasi quindi raga lei è super super ferrata sull'argomento e mi fa ah ma guarda c'è questo chirurgo che opera in Sardegna e a Milano io l'ho guardato era un po' è tipo un po' sconosciuto questo chirurgo e quindi già questa cosa non è che mi ispirasse molto perché di solito se un chirurgo è bravo viene nominato tanto, no? mai sentito raga e però essendo che mi fido di Federica essendo che comunque è una che ha guardato molto questo tipo di questo tipo di intervento si è informata molto su internet quindi ho detto ma sai che c'è? se me lo consiglia Fede mi fido vado nel senso in che senso vado? prenoto l'appuntamento era indecisa fra lui e un'altra che non mi ricordo il nome mi avete consigliato uno di Roma tipo non mi ricordo il nome anche di lui e anche lì volevo farlo a Milano raga lo so stavo veramente rischiando grosso perché per queste cose raga piuttosto è meglio mobilitarsi andare fuori sede piuttosto che impuntarsi e stare nella propria città ho detto cavolo vivo in una delle città più importanti d'Italia se non la più importante d'Italia raga vuoi che non trovo qualcuno che mi riesca operare in maniera ottimale a Milano quindi alla fine mi sono sforzata un po' ho fatto le mie ricerche raga e allora ho fatto le mie ricerche Federica mi ha dato questo nome ho prenotato l'appuntamento insomma che cosa succede in questo colloquio conoscitivo con il chirurgo tu arrivi ti siedi gli dici guardi vorrei fare la rinoplastica e lui ti dice come vorresti il naso insomma io gli ho spiegato un po' di Edri stretto e dritto e dritto di profilo lui mi ha guardato il naso insomma si è stata una mezz'oretta a chiacchierare cioè a chiacchierare a consultarci per questa cosa perché lui io ho visto le foto di lui lui opera in maniera molto naturale io ragazze anche se sembrava finto a me sarebbe piaciuto perché? perché a me l'effetto fake piace raga mi è sempre piaciuto non è che io tipo stia seguendo una moda adesso raga nel senso tutto quello che a me piace adesso tutto quello che c'è adesso su Instagram Kim K le Bratz le Barbie la pelle la faccia perfetta a me piaceva già tipo dieci anni fa raga quindi è uno stile che io seguo da da veramente tanto raga quindi raga vi prego non mi scrivete sotto i commenti tipo oh mio dio segui solo la moda no raga perché quello tutto quello che va di moda adesso a me piaceva già dieci anni fa praticamente lui mi fa guarda io te lo faccio come dici te però lo dobbiamo fare che si addica al tuo viso non possiamo fare una cosa che non sta bene col tuo viso dopo appunto la consultazione su come volere il naso il controllo del set ecc insomma tutto quello che ne concerne il primo appunto il primo colloquio con il chirurgo non ho esitato e ho deciso di operarmi con lui nel senso non ho voluto vedere nessun altro ho detto ok va bene perfetto decidiamo la data data decisa il 29 ti opero perfetto raga quindi io non ho più visto nessun altro al di fuori di lui quindi è stato l'unico chirurgo che io ho visto raga voi tipo nei commenti mi starete scrivere no mo sei pazza ne devi vedere tantissimo non lo so raga mi ispirava talmente tanta fiducia che ho detto mi voglio fidare lasciamo mi voglio fidare ovviamente ho visto le foto dei suoi lavori mi piace mi sono piaciuti quindi ho detto sai che c'è? non ne vado a vedere altri mi fido di lui facciamolo cosa succede prima dell'intervento? prima dell'intervento a me mi ha chiesto elettrocardiogramma e esami del sangue da portare da portargli una settimana prima dell'intervento quindi io ho fatto tutto questo nel frattempo e un'altra cosa che mi ha detto dieci giorni prima smettere di fumare io raga non ho problemi nel senso fumo quell'elettronica quindi non è stato un problema ma mi ha detto anche quell'elettronica quindi io dieci giorni prima ho smesso di fumare e nulla raga il dottore comunque si chiama Francesco Alia io poi comunque vi linko il suo sito ho il suo instagram qua sotto così andate a sbirciare se vi interessa e su instagram raga ho un sacco di voi allora chi è il chirurgo chi è di qui chi è di là chi è di su chi è di giù e io ovviamente a quelle che ho potuto ho risposto ho detto raga aspettate un attimo fatemi vedere come mi trovo io se mi trovo bene e tutto poi ve lo consiglio sino ad allora raga non ve lo dico per il semplice fatto che è una roba importante raga cioè finché faccio la cazzata io mi rovino la mia faccia con la mia decisione è un conto raga ma non voglio consigliare ma non voglio consigliare un chirurgo che vi deve operare la cosa in me nel mezzo della vostra faccia arrivato il giorno dell'operazione arriviamo ci portano nella stanza ero con mia mamma quel giorno portano nella stanza mi fanno cambiare mi fanno mettere non era il classico camice era una maglietta e un pantalone fatto come il classico camice di quando ti devono fare un'operazione niente ti fanno mettere questo le cuffiette poi cosa succede ah ti chiamano ti dicono andiamo io sono andata tipo a piedi nella stola operatoria ma perché era una clinica privata molto piccola sinceramente non so se di solito ti prendono collettine e ti portano a me mi hanno detto ok andiamo sono arrivata raga ho salutato mia mamma e tutto prima di fare questo lui mi ha fatto anche delle foto al naso prima di fare l'intervento vabbè andiamo nella stola operatoria mi fanno sdraiare mi iniziano a mettere tutte quelle cose che ti mettono prima di operarti e in quel momento raga tipo stavo guardando le luci tipo perché ovviamente sei tipo stradistesa non hai il cuscino cioè sei proprio dritta raga in questo lettino oltretutto ansia perché nei piedi c'erano tipo le conchette dove dovevi appoggiare i piedi e io non so cosa volesse dire tipo se mi hanno legata o cose ansia non lo volevo neanche sapere fatto sta che mi stavano appunto tutta preparando per l'intervento e tu in quel momento sei cosciente quindi raga tipo il cuore ha iniziato tun 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 è tipo guardavo stavo guardavo la luce la luce del che c'è sopra il lettino operatorio e tipo dentro di me ho detto Ale ma cosa stai facendo cioè ma lo stai facendo veramente basta un po' di contouring tipo questi pensieri qua non ho avuto agitazione dal giorno che ho saputo dell'intervento alla sera prima dell'intervento tutta l'agitazione che non ho avuto in un mese praticamente l'ho avuta mentre mi stavano imbacuccando nel letto operatorio perché proprio lì sai che lo stai facendo sai che ti stanno per fare un'anestesia e non sai se ti svegli cioè vabbè io drammatica raga non sai se ti svegli è ovvio che ti svegli cioè c'è veramente una remota possibilità che vada male un intervento del genere anche perché in una zona talmente piccola del corpo che veramente raga cioè non in teoria non dovrebbe succedere niente ecco raga la cosa che più mi faceva spaccare è il fatto che tipo loro parlavano dei cavoli loro tipo ah sì ieri sono andato in un ristorante ho mangiato questa roba buona raga parlavano come se tipo fossero in un ufficio e io morta che sentivo i loro discorsi tipo loro che parlavano del più e del meno io che mi stavo praticamente me la stavo facendo sotto a un certo punto mi fa Ale guarda che adesso ti metto la punturina dell'anestesia dimmi se ti fa male me la mette non ho sentito dolore per fortuna e mi fa io vado eh e io ok ho detto sì ti prego ah no certa raga mi fa messa cosa senti sì sento che mi pizzico un po' la testa è normale lui mi fa sì sì boom raga niente il vuoto cosmico addormentata totale raga dopo che dopo la parola dopo il mi pizzico un po' la testa niente mi sveglio che mi fanno Ale Ale respira con la bocca Ale respira con la bocca Ale respira con la bocca e tipo ho sentito ho fatto insomma così mi portano stavolta ovviamente non mi fanno alzare dal lettino dell'intervento mi portano direttamente nella nella mia stanzetta l'intervento è durato tipo due orette nemmeno e nulla raga ti svegli che è come se tipo avessi dormito cinque minuti cioè letteralmente cioè dal momento in cui io gli ho detto mi brucia un po' è normale a chi addormenti al ti svegli sono letteralmente dieci secondi cioè dieci minuti neanche raga non ve lo so dire è come quando dormite e vi sembra di aver dormito un'ora neanche cioè capito cercando di ricordarmi le sensazioni le sensazioni è il naso non sentivo niente però ero molto rimbambita raga dall'anestesia molto tanto tipo tipo un po' così però nel corso delle ore mi è andata giù tranquillamente erano tipo le undici e mezza che ero sveglia dopo l'operazione cosa succede? si fanno le quattro e mi fanno ok potete andare a casa però dalle undici e mezza alle quattro io nel frattempo smaltito l'anestesia mi hanno fatto mangiare un po' di tè e biscotti mi sono ripreso sono stato un po' al telefono insomma tutto per il meglio raga mi alzo torno a casa tutto tranquillo e adesso inizia comunque il posto operatorio che cosa succede? lui mi ha prescritto dei farmaci e mi fa Ale gli antidolorifici solo se senti dolore se no non prendere niente nulla raga cosa succede? torno a casa ovviamente le sensazioni che provi non sono solo che hai dei tappi nel naso raga letteralmente quindi devi respirare tutto con la bocca ah una cosa che a me c'era scritto nelle cose post operatorie non mangiare troppo caldo non mangiare solido per tipo una settimana quindi raga praticamente io poi per una settimana sono andata avanti tipo a minestrine budini passati di verdure queste cose qua perché comunque si fa fatica a masticare perché allora a me mi ha fatto una rinoclastica aperta non so se questo è il gergo giusto da dire quindi praticamente vi fanno un taglietto qua e vi aprono tutto un po' tipo un po' così un po' un alien quindi ovviamente avendo i punti qua fare tipo questi movimenti mi tirava quindi ovviamente meno movimenti meno si muoveva la bocca meglio era il primo giorno non ho notato niente se non ho un piccolo lividino qua quindi ho detto oh mio dio neanche mi sto gonfiando non l'avessi mai detto raga il giorno dopo raga ero gonfia così raga gonfia as fuck con un livido qui un livido qui un lividissimo qua credo di avervi fatto anche le storie insomma ero bella gonfia però non sentivo dolore raga niente di niente cioè io dolori tant'è che io la prima sera ho dormito un po' spezzettoni perché comunque raga dovete respirare dalla bocca dovete dormire dritti non potete muovere la testa perché comunque avete un gesso non si sa mai il naso è appena fatto quindi raga praticamente fate così rischiate di stortarvelo diciamo che ho dormito abbastanza tranquilla per i miei standard io fatico ad addormentarmi raga però quella sera mi sono addormentata è solo che mi sono svegliata tipo dopo tre ore dopo due ore dopo altre tre ore vabbè ho dormito a sprazzi però niente di che raga la bocca secchissima ve lo dico mi sveglio e il giorno dopo prontissima per andare a togliere i tamponi in tutto ciò appunto vi ho detto non ho preso nessun antidolorifico non sentivo dolore quindi tutto top arrivo lì aspetto il mio turno ho visto i video tipo esperienze su youtube raga alcuni dicono che fanno male alcuni dicono che non fanno male a me non mi hanno fatto niente raga mi ha tolto dei tamponi perché però perché non sono i tamponi classici sono dei tamponi in silicone raga imbevuti di una cosa grassosa oleosa in modo tale che siccome il dolore dei tamponi è dovuto al fatto che il sangue le croste che ci sono si attaccano al tampone quando poi staccate staccate le croste che ci sono raga quindi chiaramente vedete le stelle con questo metodo di mettere una sorta di pomata unta grassa non si attaccano quindi nulla tutta che con il lui mi leva un tampone tutto posso mi levo un altro la sensazione è come quando tipo vi infilate qualcosa per farvi venire lo starnuto quella è la sensazione però non starnutite nei giorni successivi dopo che vi levate il tampone perché poi dopo il tampone la settimana dopo sono dovuta ritornare perché mi ho dovuto togliere anche il gesso in quella settimana di tenersi il gesso disinfettare appunto la cicatrice con il betadine e fare degli sciacqui nel naso con l'acqua di sale a parte il gonfiore in faccia le altre cose scomode sono state che non vi potete lavare i capelli non vi potete fare la doccia per il via del vapore almeno a me è successo così quindi raga io per una settimana non mi sono fatta la doccia ecco questo è il lato oscuro diciamo della mia esperienza non ho fatto la doccia per tipo una settimana non ho lavato i capelli per tipo una settimana e peggio ancora raga tenetevi forte perché secondo me con questa vomitate non mi sono riuscita a lavare i denti per quattro giorni raga perché essendo che appunto ho la cicatrice qua facendo tipo tutti questi movimenti qua la prima settimana raga immaginatevi che comunque dà fastidio i punti vi tirano quindi fa male e quindi non ce l'ho fatta quindi io praticamente raga dopo quattro giorni sono riuscita a lavarmi i denti e vabbè la doccia è una settimana e cap quindi questo questo più o meno è stato il mio contro principale ecco che ho avuto e poi il gonfiore in faccia che ero gonfissima raga ma veramente tanto anche l'anestesia ho visto dei video dove dicono che non gli è piaciuta l'hanno trovata fastidiosa dopo perché erano molto tipo tipo giramenti di testa chi l'ha rigettata insomma a me personalmente raga l'anestesia è piaciuta tantissimo tant'è raga che mi ricordo che eravamo ancora lì dopo l'operazione tipo parlando con mia mamma gli ho detto no vabbè ma non puoi capire quanto è top l'anestesia ti prego prendiamo l'anestesista e mettiamola in casa per quando non riusciamo per quando io non riesco a dormire perché non so se ve l'ho mai raccontato io raga per addormentarmi ci metto le calende greche cioè se io non sono cotta io posso stare anche sei ore nel letto senza chiudere occhio I have no idea non so se insonnia non so cosa sia raga ma faccio una fatica bestiale a prendere son passa una settimana mi va a togliere il gesso e lì raga ho visto il naso raga sembravo un mix fra un avatar e Miss Piggy non sto scherzando era tipo così il naso raga era gonfissimo tantissimo quindi tipo ero lì che gli dicevo ma si sgonfia vero ma diventerà più piccolino vero ma si sgonfia vero e lui si 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 sgonfia si sgonfia non ti preoccupare però la forma era bella è solo che era eccessivamente grosso ma raga tenete a mente che avete fatto un'operazione è ovvio che sia gonfio dopo una settimana è ancora gonfio adesso figuriamoci dopo una settimana ah e in più raga il giorno che mi ha tolto il gessetto mi ha tolto anche i punti rimozione dei punti niente di niente raga niente di niente l'unica cosa è che avevo tante croste e quelle ha provato un po' a togliermele così quelle mi hanno dato un po' fastidio ma a parte questo comunque io ho continuato a fare i miei sciacqui con lo spruzzino all'acqua di sale per adesso tutto bene ancora raga vi dico un po' di crosticine ci sono bla 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 ma piano piano va tutto via a questo punto raga dolori pari a zero l'unica cosa è che si incrostava tanto ma quello ovviamente raga dovevate fare gli sciacqui poi ancora non riuscivo bene a soffiarmi il naso ho iniziato a soffiare il naso a metà della seconda settimana ma molto molto delicatamente però a parte questo niente in tutto ciò raga io ho mai presi antidolorifici dopo l'intervento per farvi capire e un'altra cosa super frustrante raga è che non potete lavarvi la faccia voi non avete idea dopo una settimana e mezza che non vi fate uno scrub la vostra faccia com'è ridotta io io praticamente raga mi stavo disquamando cioè stavo cadendo a pezzi letteralmente quindi praticamente l'unica cosa che riuscivo a fare come skin care evitando la zona del naso è prendere un dischetto di cotone usare il mio tonico di pixie quella la rosa che vi ho detto che adoro e lo passavo sulla faccia come se mi stessi lavando la faccia ecco e questa era l'unica cosa che facevo la facevo tipo due o tre volte al giorno raga tipo dalla disperazione poi è arrivato il fatidico giovedì dove mi ha levato i cerotti definitivamente me li ha levati il naso assolutamente si era sgonfiato rispetto alla settimana prima quando mi ha tolto il gesso e era un pelino più gonfio di com'è ora ma comunque lui mi ha detto mi raccomando massaggia il dorso massaggia la punta fai tipo questo movimento qua massaggialo bene in modo tale che piano piano si sgonfia sempre di più ma in ogni caso mi ha detto il vero risultato lo vedrai dopo sei mesi come tutti raga anche se comunque ora come ora vi dico mi ha detto che praticamente a me mi si deve solo sgonfiare questa zona qua e mi si deve abbassare un po' di più il dorso e a parte questo è tutto a posto anche come vedete anche nel video è un po' gonfietto nulla di trascendentale raga su una scala da 1 a 10 dolore 3 e fastidio su una scala da 1 a 10 la prima settimana 6 la seconda 3 ma questa raga è la mia esperienza personale poi dipende da fisico a fisico da chi è più in salute chi è meno in salute insomma dipende da è una cosa molto individuale io thank god I was blessed enough e non ho praticamente patito nulla 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 nel posto operatorio se non le cose che vi ho detto del non lavarsi e del gonfiore quindi a parte questo raga io praticamente zero per finire raga parliamo del price il price io non so se va da persona a persona non ne ho più pari d'idea vi dico a me allora all'inizio quando abbiamo fatto il colloquio per decidere che naso fare mi ha detto non ti verrà costare più di 6.000 euro quindi sappi che più di 6.000 non te lo faccio pagare ok il naso poi non me l'ha fatto pagare il giorno del colloquio non me l'ha fatto pagare il giorno dell'intervento quindi appena mi dimettevano andavo giù nella reception della clinica e ho pagato l'intervento e poi io scendo c'era il chirurgo mi fa guarda alla fine non è 6.000 ma sono 5.600 quindi alla fine raga mi ha fatto uno sconto di 400 non so se mi ha fatto uno sconto o meno però me l'ha fatto pagare totale 5.600 euro non più 6.000 non so tipo non lo so sconto black friday I have no idea guys e nulla raga io spero vi sia tornato utile per chi fosse interessato insomma raga ovviamente non dico vi dovete fare il naso o cosa assolutamente no ognuno è libero di fare quello che vuole col proprio corpo io I'm just share I'm just share with you my experience visto che io sono un canale di beauty il beauty non è solo skin care e make up ma sono anche queste cose raga chirurgia plastica estetica anche quello fa parte del mondo beauty raga quindi I share 100% with you girls quindi ho deciso di fare questo video qua fatemi sapere se il naso già vi piace così com'è se non vi piace perché se siete d'accordo se non siete d'accordo insomma sbizzarritevi down in the comments basta che please be polite girls vi prego nulla questo è veramente tutto raga ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanellina perché si sa youtube ultimamente è un po' pazzerella seguitemi su instagram se ancora non lo fate e grazie come al solito di supportarmi e sopportarmi as always grazie della vostra educazione e noi come al solito morine ci vediamo a un prossimo video and keep slaying bitches bye girls